Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video e dato che oggi non è lunedì, perché non è lunedì... No, oggi è lunedì. Alexa, che giorno siamo? Oggi è lunedì 24 gennaio di... Scherzavo raga, oggi è lunedì. Niente, Alexa? Mi appena hai ricordato che è un poco Amazon ed è in arrivo oggi e me l'avrò anche dimenticato, quindi bene così. Torniamo online. Bene, da come avrete visto dal titolo del video, oggi parliamo del fatto che ho rivoluzionato interamente la mia scrivania. Infatti, se vedete, è interamente in legno. Però non è che ho comprato la nuova scrivania, era rossa, non so se in un video precedente era rossa, anzi, probabilmente sì. Adesso arriveranno, casomai, dei piccoli video di qualche secondo in cui ve la faccio vedere bene bene con video in alta definizione, slow motion, così. Però voglio un mazzo di carte, perché io voglio un mazzo di carte a tema e infatti ho questo bellissimo mazzo di carte che si chiama... Si chiama... My knock numero 3 wood, ovvero legno. E sono bellissime perché sono per l'appunto a tema legno e perché non utilizzare queste carte... con questo... cioè, strafigo, no? Queste carte possono anche... Bene? Guarda che bella! Guarda qua! Cioè, se non avessero il bordino bianco, probabilmente se la lascio qua, neanche la vedreste, perché è esattamente dello stesso colore della scrivania. Vi faccio vedere qualche ripresa e poi torno qua. Ciao! 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 Bene, questo era il video che ho fatto riguardo alla mia scrivania, quindi spero che vi possa essere piaciuto. Vi dico un po' come l'ho fatta, perché in realtà come l'ho creata? L'ho creata prendendo dei grandissimi tubi di carta adesiva e l'ho spiaccicata, ci ho messo un casino perché venivano delle pieghe, perché vengono le bolle, come per esempio quando mettete la pellicola adesiva sul telefono che vi vengono le bolle. Quindi avevo tipo un libro e dovevo tutto il tempo a fare questa cosa qua ogni due secondi per fare ciò che non si creano queste bolle. Quindi ci ho messo veramente un casino, a fare tipo un'oretta o una roba del genere. I tubi li dovrei avere ancora qua, eccoli! Sono questi tubi qua, adesso ve lo provo un attimo a staccare se riesco. Ok, sono questi tubi che dietro la figata, e che hanno anche tipo il quadratino, vabbè ci sono anche le spiegazioni, però hanno i quadratini, quindi potete veramente misurare le cose proprio al centimetro. E niente, io una volta, questi qua, avevate anche visto qualche video, probabilmente sui reel di Instagram, che mi segui su Instagram, piuttosto che YouTube Shorts, anche probabilmente nei YouTube Shorts, che li avevo attaccati, non so parlare, che li avevo attaccati qua, su questa mensola qua, che non vedete, però sul mio armadio. Che poi, vabbè, l'ho deciso di staccare, perché veniva fuori una roba abbastanza orrenda, e mi ero già stufato. Però qua dico che ci sta veramente, anche perché va sia a tema col mio pavimento, che è in legno, sia con le mensole, sia con il mio comodino, che è in legno, sia con le porte, perché qua è un pochino tutto in legno, quindi direi che ho fatto una scelta abbastanza equa, quindi fatemi sapere casomai nei commenti se vi è piaciuta questa idea che ho avuto. Noi ci vediamo in un prossimo video, sicuramente con questo bel pisellone, che voi non vedete, oppure eccolo qua, attaccato qui, che è questo braccio qua, che mi fa le riprese da sopra. Però ovviamente, ragazzi, non so neanche se utilizzerò il tappetino, perché, guardate che roba, cioè, ufo. Cioè, è come avere un tappetino lungo tutta la scrivania, cioè posso, ovviamente non so, le doppie... Guarda, neanche, 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 neanche non si spaiono, guardate qua, strafrio. Bene, mi sto troppo eccitando. Ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi in tanti e fate girare la voce che ho aperto questo bellissimo canale. E ultimamente sto anche avendo un pochino di riscontri positivi in più, perché grazie a YouTube Shorts, le cose qui, il numero di iscritti sta un pochino aumentando. Ma speriamo che non aumentino solamente per gli YouTube Shorts, ma anche perché porto contenuti interessanti, carini. E niente, ragazzi, noi ci vediamo, per l'appunto, in un prossimo video. Io vi mando un bacio ed un abbraccio e niente. Ciao, ciao!